Amici di Experience Italia questa è una prova fotografica di rapidità di messa a fuoco di Z5 Compact aggiornato ad Android Marshmallow. Come potete vedere cambiando i vari punti di messa a fuoco noterete la rapidità di messa a fuoco dell'autofocus. Con l'Hollipop devo dire che non era non era così rapido non era così rapido l'autofocus. Vi faccio vedere qualche prova di scatto che anche anche questo sembra migliorato in rapidità con con questa piccola e veloce recensione è tutto un saluto da Lorenzo cliccate mi piace il video